Il colesterolo non è assolutamente un nemico, è un semplice estirolo che è un'unione di steroidi e alcol con una quantità incredibile di benefici e di regali per il nostro corpo. Vediamo gli otto principali. Innanzitutto il colesterolo ci aiuta a produrre ormoni sessuali, quindi ci sostiene nella produzione di estrogeni, progesterone, testosterone e soprattutto di H&A, che è un ormone importantissimo per il nostro equilibrio psicofisico. Poi ci aiuta a mantenere le cellule integre, quindi prolunga la nostra giovinezza, la nostra qualità proprio della vita delle nostre cellule, perché di colesterolo sono fatte le membrane cellulari, quindi importantissimo proprio alla vita della molecola. Poi ci aiuta a trasferire i nutrienti nel cervello. Senza colesterolo noi non riusciamo a far funzionare in modo adeguato il nostro cervello, soprattutto a portare lì i nutrienti essenziali. Poi ci aiuta a mantenere integro il nostro sistema intestinale, importantissimo l'equilibrio della flora batterica intestinale è legato tantissimo all'apporto di colesterolo. Aiuta, favorisce proprio la produzione di serotonina nel nostro cervello e quindi mantiene in modo equilibrato il nostro umore, favorisce l'assorbimento di vitamina D. Senza colesterolo non assorbiamo vitamina D, quindi abbiamo seri problemi nel tempo con la nostra quantità di calcio nel corpo e con la salute delle nostre ossa e delle nostre articolazioni. E poi il colesterolo è il principale antiossidante nel nostro corpo, quindi il principale presidio contro l'infiammazione. Quindi ci sostiene, prolunga la nostra vita in generale e ci riequilibria l'intero corpo. Ciao!